Allora, amici di Onda Libero TV, siamo a Marotta e siamo con Mirko Bonoli, che è un terapeuta che pratica l'omeopsicologia. Allora, intanto Mirko, ci diamo del tu. Certo, certo. Allora Mirko, ci puoi spiegare cos'è l'omeopsicologia? Beh, l'omeopsicologia prima di tutto è un percorso di consapevolezza, è un termine forse abbastanza abusato, però l'originalità sta nel fatto che un percorso di consapevolezza è stato scomposto in 12 gradini, in modo tale da rendere più funzionale e praticabile un cammino, perché è chiaro che un cammino si chiama tale proprio perché è in salita. E se questa salita la scomponiamo in gradini, come sappiamo, ogni salita può essere percorribile. Bene, e da dove nasce questo tipo di psicologia? Mi sembra che sia un misto tra cultura orientale e occidentale, insomma. Sì, certo, proprio questo. La mia formazione ovviamente è tipicamente occidentale, perché ho preso la laurea a Padova, però poi la mia ricerca personale si è aperta a tutte le discipline orientali e alla psicologia orientale, che è molto critica nei confronti della nostra, però giustamente si può prendere il buono di entrambe. Di ogni cultura. Di ogni cultura e queste consapevolezze infatti sono messe, le ritroviamo in entrambe le culture. Ogni gradino contiene una consapevolezza e gli esercizi però per acquisirla. E' da molto tempo che pratichi queste tecniche, queste terapeutiche? Sì, diciamo che prima di tutto è 30 anni che svolgo questo mestiere ed è chiaro che posso dire che il risultato si è prodotto in tutto questo tempo. È chiaro che magari si chiama omeopsicologia da 7-8 anni, però è vero che anche tutti gli anni precedenti sono serviti per far crearla. E' proprio che ci siamo arrivati a gradini. Certo, sì. Magari prima si chiamava in altro modo, la usavo e poi chiaramente i gradini che stiamo utilizzando oggi sono poi sempre anche in evoluzione, si arricchiscono anche di altre tecniche che io poi umilmente vado a cercare anche in tante altre discipline. E' una disciplina quindi è sempre in evoluzione, non deve essere mai rigida. E i risultati come sono? Beh, sicuramente sono proporzionali al tipo anche di impegno che le persone sono disposte ovviamente a mettere. Essendo un percorso richiede il nostro, è una forma di disciplina, però è una disciplina che si applica nella vita di tutti i giorni, non richiede, non porta via tempo, è consapevolezza allenata nella quotidianità. Questo per me è l'elemento più originale di questo. Bene, grazie per queste delucidazioni. A Bici di Onda Libera un saluto. Saluto a tutti.